Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovati in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede, perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la comunione delle Sue sofferenze, facendomi conforme alla Sua morte nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata, so soltanto questo, dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù. Pace a voi. Le cose vecchie sono passate, sono nate delle nuove, anzi faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? C'è un invito pressante a considerare la novità che solo Dio può continuamente realizzare e in Cristo ha realizzato definitivamente per ogni uomo e ogni donna. La novità. La novità viene dall'azione di Cristo. Senza l'opera di Cristo ogni altro tentativo di fronte alla difficoltà, di fronte al limite, di fronte al peccato, non sa cosa fare. E a volte, ecco, di fronte a quel limite e a quel peccato che provoca il disordine sociale si preferisce la morte. Mosè, ci ricorda il Vangelo oggi, ha stabilito di lapidare donne come questa. È l'adultera. L'adulterio disordine sociale, sicuramente, difficile da risolvere nella legge di Mosè. La legge che viene da Dio. ha cercato la via della morte, la via della lapidazione. Mosè, nella legge, ha stabilito di lapidare donne come questa. E dov'è la cosa nuova promessa da Dio se poi la soluzione è la lapidazione? Paolo, nella riflessione, che la seconda lettura porta sempre alla parola ascoltata nel Vangelo e quindi l'approfondimento che egli ci offre, ecco che ci aiuta a capire perché Gesù supera quella legge che porta alla morte e presenta la via attraverso la quale egli porta a novità la creatura, la creatura peccatrice, la creatura sorpresa e in flagrante adulterio. Paolo, parlando della sua esperienza, a un certo punto dice che c'è stata una decisione nella vita, una decisione che ha fatto considerare ogni cosa una spazzatura rispetto alla conoscenza di Cristo, rispetto al guadagno della relazione con Lui, rispetto al guadagno dell'amicizia con Lui e dice ed essere trovato in Lui avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge ma quella che viene dalla fede in Cristo. Ecco la via che inaugura Gesù e la inaugura in maniera chiara proprio lì, con la donna peccatrice di fronte a Lui e di fronte agli accusatori. Qual è la sorte di quella donna? In una giustizia che deriva dalla legge la sorte di quella donna è la morte. In una giustizia che deriva dalla fede in Gesù Cristo la sorte di quella donna è la vita. E Gesù concretamente lì apre questa nuova via. La relazione con Lui che fa prendere coscienza che tutte le altre cose della vita sono spazzatura e che il peccato è la spazzatura della spazzatura. Ma anche altre situazioni che potrebbero sembrare utili alla vita rispetto a Cristo sono spazzatura. Dice Paolo, ritengo che tutto sia una perdita, non solo il peccato, a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Ecco la donna peccatrice davanti a Gesù è proprio l'immagine di chi si trova ormai lì a un bivio tra il prima che è spazzatura, la condanna che è chiusura definitiva o la via nuova che si apre. Gesù si pone di fronte alla donna come la via della fede. La giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Dio ha mandato il suo figlio per aprire questa via nuova della giustizia. Dopo aver dato la legge come pedagogia alla venuta del figlio, come insegnamento, come preparazione alla venuta del figlio, ora c'è la giustizia che non viene più dalla legge, ma è il figlio. Gesù è la vostra giustizia. E se di fronte alla legge era necessaria l'osservanza, l'obbedienza, di fronte al figlio è necessaria l'obbedienza della fede. E a questo punto si apre, ecco, la pista del credente. Si apre il cammino di chi crede in Gesù e si pone nel nuovo viaggio. Si pone nella novità dell'esistenza. Ma andando per un attimo al Vangelo, dov'è per la donna la fede? Rimane davanti a Gesù. Tutti vanno via di fronte a quella parola che inchioda. Chi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Tutti vanno via. La donna sarebbe potuta scappare via. Ora che gli accusatori non ci sono più, lei poteva sentirsi finalmente libera, liberata da quella parola di Gesù. Ma la donna rimane lì. Cosa ha scritto Gesù per terra? Tante interpretazioni. Sant'Agostino in questo è meraviglioso. Ma a me piace fare queste ipotesi. Gesù sta scrivendo per terra le beatitudini del discepolo che lo segue. La donna non si muove. La donna è di fronte al suo liberatore e sa che ora la sua vita dipende dalla fiducia in colui che lo ha liberato, non dal fuggire dagli accusatori e da colui che la sta liberando. Ecco la fede. Rimanere legati a colui che ti libera. E rimanendo legati a colui che ti libera si inizia il percorso. Un percorso che Paolo descrive chiaramente. Deve avere la conoscenza di lui. Il discepolo che rimane legato a colui che lo libera. Ecco inizia tutta la conoscenza del Maestro. Deve sentire che in lui opera la potenza della sua risurrezione. Per cui quella liberazione è dovuta alla potenza della sua risurrezione. alla potenza del figlio di Dio che è venuta a liberarci. Ma si sente anche che la sofferenza dovuta al peccato, dovuta all'accusa, dovuta alla paura della morte, quella sofferenza genera comunione con le sofferenze di Gesù. E quindi Paolo aggiunge la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze. Facendomi conforme alla sua morte. Non c'è più la morte della lapidazione di fronte alla donna. Non c'è più la morte come castigo. Ma c'è la morte al peccato e la morte al peccato nella morte di Cristo. E questo è il lungo percorso che sicuramente farà quella donna e che dobbiamo fare anche noi per arrivare nella speranza alla risurrezione dai morti. Cioè a vincere anche la paura della morte fisica. La lapidazione faceva paura alla donna come morte e come condanna. Nella fede la morte fisica non fa più paura perché non è più la condanna. Ma Gesù le dice va ed ora in poi non beccare più. E San Paolo ci tranquillizza e dice non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla perché anche io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Quella donna non è tornata alla prostituzione ma sicuramente ha fatto un lungo cammino di perfezione sapendo di non essere più un oggetto in vendita ma sapendo di essere stata conquistata dall'amore di Gesù Cristo.